Wella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo gameplay. Oggi siamo su Call of Duty World at War. Ragazzi, finalmente sono su un gioco diverso dal solito. Infatti di solito faccio sempre Minecraft, ma oggi finalmente possiamo giocare a zombie. Allora ragazzi, questo gioco me l'ha gentilmente passato lo spagnolo Lillezzo 99. E quindi sono pronto per affrontare una zombata. Oggi faremo una zombata su The Rise, che sarebbe The Giant su Black Ops 3. E vediamo un po'. Ci ho già provato un paio di volte, soltanto che il massimo che sono riuscito a fare è stato fino al dodicesimo round. Allora ragazzi, non sto giocando con il joystick, ma sto giocando con mouse e tastiera. Allora, io mi trovo meglio così, perché ormai mi sono abituato. E quindi vediamo. Vediamo quanto riesco a resistere. Dai su zombie, uscite, uscite. Allora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. E accoltellata. Grande così, grande. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, sei, otto. E accoltellata. Ok. Faccio questo per raccogliere più punti possibile fin dall'inizio. Adesso qua. Ok, non mi dà più punti sistemando le barriere. Quindi, fino al prossimo round non dovrò far niente. Non dovrò riparare le barriere. E muori. Grande così. Siamo già a 1170 punti. Poi dovrò prendermi una di queste armi a muro, assolutamente. Vediamo un po'. Muori, 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 muori. Ok. Ne manca soltanto uno. Vieni qua. Muori, muori. No, ammo. Ok. 1570 punti. Buono così. Veramente buono così. Prendiamoci questo fucilone. Perché non ho più munizioni qua dentro. Adesso possiamo riparare le barriere. Così ci danno anche i punti. Quindi, dai, puntiamo a superare il mio record personale. 12. Certo, raga, non pretendete troppo. Sono un pochino scarso in questo gioco. Dai, su. Vai, zombie. Qua c'è un buco. E anche qua c'è un buco. Mmm, ma chi c'è là? Headshot. Oh, no. Che sfiga, raga. Che sfiga. La bomba. Non doveva... Non dovevo beccare la bomba a quest'ora. Dovevo ammazzarli tutti pian piano. Raga. La sfiga. Vabbè. Adesso, assolutamente, devo aprire la prossima porta perché mi devo prendere il mitraglione. Il Thompson. Assolutamente. Il round 3, diciamo che è un round abbastanza critico. Ok. Devo assolutamente aprire. Vediamo se abbiamo abbastanza punti per prenderci il fucilone. Eh, sì che ce li abbiamo. Eh, il mitraglione. Il Thompson. Eccolo qua. Dai, venite qua, zombie. Dai, su. Venite. Venite. Dai, vi sto aspettando. Vi sto aspettando. Oh, cavolo, raga. Me la sono vista brutta. Buono. Punto a fare gli headshot. Così, così almeno risparmio. Cavolo, ho già finito il round. Aia. Devo raccogliere assolutamente mille punti per aprire la prossima porta. Dai, vediamo se c'è qualcuno qua da ammazzare. Non ancora. Saliamo, allora. Boom. Qua ci sono le bibite. Di là c'è il Juggernaut. E qua c'è la cassa. E adesso, boom, attiviamo l'elettricità. Dai, zombie, vi sto aspettando. Vi sto aspettando. Dove siete? È difficile giocare con il mouse. Perché non posso fare più di un'azione contemporaneamente. Ho messo... Ho cercato di mettere tutti... Cavolo, non l'ho ricaricato. Scemo. Ho cercato di mettere tutti i tasti più possibili vicino alle mie mani. Soltanto che... Comunque sia una cosa abbastanza difficile. Infatti sto tenendo le mani che è una roba pazzesca. Malissimo. Poi mi sono messo le cuffiette perché ho notato nelle registrazioni che il suono si sovrappone. Quindi ho messo le cuffiette solo per far sentire il suono del gioco più limpido possibile. Dai, fatevi sotto, fatevi sotto. 2200, attenzione. 2300. Sai cosa? Io una cassa me la farei. Dopo mi prendo il jugger nog. Buono. MP40. Cioè, non è buonissima come mitraglione, ma meglio di quello che avevo prima. Sinceramente preferisco il top. Stai. Raga, attenzione. Stai. Dai, su. Sto camperando in questo momento perché non so cos'altro fare. Doppio. Doppi punti. Dai. 4.000 punti. Buono così, raga. Buono così. No. Mi sa che... Devo prendermi assolutamente il jugger nog. Ho fatto una cazzata. Vabbè. Adesso ammazziamo questi cani che rompono tanto le balle. Ammazziamoli comunque. Oh, cavolo. Sti cani del cavolo. Dai, fatevi sotto. Oh, checca. Dai, fatevi sotto. Dove siete? Morite. Dov'è? Dovrebbe essere l'ultimo? Non è l'ultimo. Quello dovrebbe essere l'ultimo? Buono. È l'ultimo. Buono. Devo prendermi il jugger nog. Devo prendermi il jugger nog. Dai, muoviti. 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 Corri, 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 corri. Round 7. Ok. Jugger nog preso. Scendiamo. Buono. No. Ho fatto una cazzata. Dai, fatevi sotto. Come prossimo perk devo prendermi la speedcall. Ho anche abbastanza punti. Muori. Dai. Bisogna assolutamente la trappola a zondi. Dai, fatevi sotto. Che morite. Dai, fatevi sotto che morite. Ah ah ah, godo. Cavolo. Ok, adesso prendiamoci una bella speedcalla. Buono. Raga, ottavo round e ancora non ho attivato un cavolo di teletrasporto. Devo stare attentissimo. Io a quest'ora ne avrei già attivati almeno due. E adesso ancora non ho fatto proprio niente. E adesso ancora non ho fatto proprio niente. Here. E...